E' stato presentato ufficialmente il nuovo consiglio di amministrazione di Cosmari SRL. Questa è la nuova squadra che guiderà la società. Presidente Graziano Ciurlanti, Vicepresidente Rosalia Calcagnini, componenti del CDA Paolo Gattafoni, Maria Elena Sacchi, Armando Vitali. Nel corso dell'incontro presente anche il direttore Giuseppe Giampaoli. Il presidente Graziano Ciurlanti ha toccato diversi argomenti relativi alla situazione complessiva di Cosmari, recentemente trasformatasi da consorzio in società a responsabilità limitata, illustrando in sintesi le specificità della filiera, dall'organizzazione tecnologica ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, ponendo particolare enfasi alla definizione di un piano a medio termine, che consenta al Cosmari di misurarsi nella propria capacità di individuare i migliori percorsi per il raggiungimento degli scopi essenziali della più elevata qualità ed economicità del servizio svolto. Presidente, da poco il Consiglio di amministrazione si è insediato al Cosmari. Intanto, quali sono le linee guida all'interno delle quali si muoverà questo nuovo CDA? Innanzitutto definire i passi formali già avviati dopo la trasformazione, che sono quelli di completare il processo di aggregazione disintegra. Poi, in realtà, quello che stiamo facendo è di concludere quello che è il riposizionamento finanziario dell'azienda dopo i grossi investimenti effettuati negli anni scorsi, soprattutto per la discarica di cingoli, che ha bisogno quindi di un riequilibrio su cui stiamo lavorando all'agremente proprio in questi giorni. Molti cittadini si continuano a chiedere quale sarà poi la tariffa per il futuro. Lei a questo proposito ha detto che nei prossimi giorni si incontrerà con l'ambito territoriale proprio per cominciare a pianificare questo progetto. All'interno di questo concetto di tariffazione, cosa farà il Cosmari? Io ho già preso appuntamento con il Presidente Pettinari, su cui confido che riusciamo a fare un buon lavoro, però come ho detto già anche al Consiglio di amministrazione, prima di parlare di tariffe che secondo me devono essere sempre orientate al miglior contenimento, bisogna parlare di piano d'ambito. Io ricevo dal vecchio Consiglio di amministrazione sicuramente una buona eredità perché c'è una concessione a 15 anni, però non c'è un piano sviluppo individuato da rifario, soprattutto un piano investimenti concordato. Non entrare nei dettagli, però quanto potrà incidere appunto in questo senso nella tariffazione il cambiamento del Cosmari da un'assemblea di comuni soci ad una società di capitali nell'economia delle famiglie maceratesi? Non è tanto il cambiamento di veste societaria che fa cambiare la possibilità di avere maggiori economie. Credo che le maggiori economie vengono innanzitutto dall'avere pensato a un progetto di aggregazione di più realtà che lavoravano su questa filiera e quindi il fatto che già Smea sia stata inglobata all'interno di Cosmari oggi anche si integra di fatto sostanzialmente pianificata e organizzata in maniera unitaria. Quindi questi erano i passi importanti per poter garantire la migliore economicità delle operatività di servizio. Quello invece su cui bisogna lavorare è lavorare sulla spinta di quelli che sono i risultati positivi che si sono raggiunti in molti comuni negli ultimi anni della differenziazione di poter quindi migliorare il conto economico perché si valorizza al meglio le risorse che si trattano. Poi credo che anche la discarica di cingoli che è stata da poco approntata stia dando dei buoni risultati anche se non ne abbiamo potuti vedere e toccare con mano in maniera integra per tutto l'anno perché è partita solo da luglio dell'anno scorso però porterà dei buoni risultati. L'unica cosa è che il riequilibrio delle posizioni finanziarie farà anche pagare un po' più di oneri finanziari quindi bisognerà vedere il netto quanto occuperà. Però secondo me ci sono buone prospettive. Un'altra questione è quella dell'impiantistica. Ci saranno nuovi investimenti, nuove progettualità che riguardano il Cosmari o il territorio? Noi in questo momento sugli investimenti stiamo, come dicevo adesso, parlando della discarica stiamo guardando la proiezione dell'abbancamento definitivo delle prime due vasconi che credo si potranno proiettare da qui a due anni. Già da adesso bisogna programmare gare e progetti esecutivi per fare il secondo step, il secondo stralcio della discarica di cingoli per altri 250.000 tonnellate. È un investimento importante, parliamo di 3 milioni e mezzi, 4 milioni di euro. L'altro aspetto su cui ci stiamo focalizzando è con l'integrazione di Sintra e guardare un po' anche il rinnovo del parco mezzi che è abbastanza vetusto, non è molto nuovo e anche questo comporterà importanti investimenti. Per quanto riguarda invece la parte selezione e compostaggio, il compostaggio già è dato oggi di un impianto di compattazione e di confezionamento per portarlo in discarica abbastanza buono. L'altro impianto invece che già abbiamo ma non è stato ancora definitivamente collaudato è l'impianto di selezione della differenziata su cui stiamo già premendo alle costole l'ingegner Giampaoli che lo effettui al più presto il collaudo per farlo partire subito. Quello è un impianto che ha anche una valenza regionale, non ha una valenza solo per il Cosmari e quindi per la provincia di Macerata ma può essere messo a disposizione per le altre province della nostra regione. Biogasso, biometano, su cosa punta il Cosmari? Noi puntiamo sulla migliore valorizzazione della filiera e quindi anche dei suoi sottoprodotti. Questo non significa che li utilizzeremo in logo per creare energia ma oggi con le nuove indicazioni normative nazionali e regionali che sono positivamente orientate nel senso noi siamo obbligati anche alla scorta delle indicazioni dell'Assemblea a doverci lavorare. Quindi è un terreno su cui noi esploreremo tutte le possibilità. Idealmente pensiamo di dover fermarci alla fase di estrazione diciamo della materia prima poi veicolarla per farla utilizzare e valorizzarla altrove. Il direttore del Cosmari Giuseppe Giampaoli ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la raccolta differenziata che ha visto la percentuale della media provinciale salire nell'anno 2014 al 72,83% contro il 71,90% dell'anno precedente. Abbiamo aumentato di nuovo quasi due punti di raccolta differenziata tutta la provincia soprattutto abbiamo attivato dei circuiti molto importanti ad esempio Macerata che è arrivata a una percentuale di raccolta differenziata che sul bacino anno è il 63% ma a dicembre è il 77%. Abbiamo portato i quattro comuni maggiori della provincia da Civitanova a Tolentino a Recanati e a Macerata a livelli comunque sopra la media provinciale quindi quattro comuni grandi che sono l'orgoglio di questa realtà quindi la raccolta differenziata sta andando benissimo e sicuramente potremmo anche guardare al futuro con grande importanza con grande speranza. Un solo dato, probabilmente dal prossimo anno proprio in questi giorni è al Senato in discussione il collegato ambientale la raccolta differenziata non si calcolerà più su quello che viene raccolto in maniera differenziata ma su quello che viene recuperato questo vale in tutta l'Italia e questo sarebbe per noi una cosa anche importante cioè non troveremo più il 76% troveremo il 50% perché lì la legge dirà il 50% al 2020 uno dice ma così poco in realtà quello che viene recuperato non è il 77% come ho detto l'altra volta ma è meno però certamente siamo anche lì in vantaggio rispetto a quello che sarà il 2020 l'altro aspetto della raccolta differenziata è il microchip noi abbiamo iniziato ormai da due anni l'avventura del microchip perché? Perché in Italia i più avanzati sistemi di contabilizzazione si basano proprio sulla rilevazione tramite il microchip del prodotto o del rifiuto che viene conferito bene siamo partiti ormai con 10 comuni ma quello che è importante è quello che stiamo facendo adesso Castellamondo tra alcuni mesi e comprenderemo penso prima dell'estate la sperimentazione andremo in qualche modo a definire una tariffa sulla base di quello che il cittadino ci dà quindi quello che ci riconsegna, come fa la raccolta differenziata se viene premiato e quindi una tariffa puntuale questo è il futuro del microchip anche nelle altre città io sento che giustamente in alcuni sindaci il microchip per loro comincia ad essere un costo ed è vero che è un costo però in questa ottica potremo portare penso la provincia anche qui all'avanguardia oggi il trevisiano per esempio sta passendo già treviso la tariffa col microchip, capannori e altre realtà stanno andando avanti con il microchip perché questo è il modo di arrivare alla tariffa puntuale anche su questo punto di vista credo che bisognerà fare un ulteriore sforzo ma in tempi rapidi potremmo nel 2015 certamente potremmo dare delle risposte importanti ma in tempi rapidi potremmo dare delle risposte importanti